bravi 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 una volta che si è andato a prendere l'orchestra una volta che si è andato a prendere l'orchestra e la palla se ne va scomparsa la palla bravi 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 It's a little bit of time Ah, 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 ah Oh, hugh Look at him, yeah Really? Oh, he has been keeping Grazie a tutti. Grazie per il vostro caloroso applauso. Non potete immaginare quanto ci siete mancati negli ultimi mesi. È ancora più bello condividere questi momenti con voi oggi sotto il nostro tendone. Grazie di cuore per la vostra visita e la vostra fedeltà. Buon rientro e abbiate cura di voi. Arrivederci e a presto. Finale raga. Finale. 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 fine cnì con la chitarra raga vabbè finito ci vediamo fuori per la chiusura eccoci qua ragazzi siamo usciti dal circo il circo cnì dietro di noi alle spalle tutta la gente che defluisce ciao Gabi c'è anche con me la Gabriella ragazzi ecco qua entriamo proprio dentro al al chapitò del circo so se si vede raga eccolo qua tutta la gente che defluisce eccolo qua ragazzi circo nazionale svizzero svizzero cnì ah danno pure il è Yaribo Yaribo ecco andiamo ragazzi defluiamo qua ecco passate sotto al chapitò con la scritta cnì di dietro eccola lì anche qua sopra c'è il cartello guardate raga ecco ole eccola lì scritta cnì guardate che roba raga ecco dietro di noi il circo che si allontana come sempre tutti gli anni circo cnì ragazzi quindi che dire da questo video è veramente tutto da ROES98 vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata ci vediamo al prossimo video bella ciao ciao Grazie a tutti.